. Diletta Leotta stupisce tutti, il piccolo incidente in vacanza Diletta Leotta perde il costume mentre nuota, l'incidente in vacanza. Diletta Leotta si trova attualmente in vacanza in Costa Smeralda e nelle ultime ore ha infiammato i suoi social attraverso scatti e video molto bollenti. . La prima foto che ha raccolto grande consenso di pubblico è stata una sua immagine che la ritraeva sorridente e sensuale sopra uno scoglio, con indosso un bellissimo costume con il pizzo bianco. . La foto che mostrava il fisico statuario della giornalista di Sky era molto bollente ma mai volgare, regola che Diletta Leotta ha sempre seguito almeno sui suoi social. . Tuttavia, su Instagram Diletta ha anche pubblicato proprio ieri sera un video mentre nuotava a delfino nel mare cristallino, e mentre sbracciava nell'acqua è accaduto un piccolo incidente che però non l'ha fermata, il pezzo sopra del costume è volato via e si è lasciato trasportare dalle onde, ma Diletta Leotta ha continuato imperterrita la sua nuotata, emozionando non poco i suoi fan. . Diletta Leotta nuota a delfino e perde il costume, ma non si ferma. Video. . Come si può benissimo vedere dal video che vi abbiamo allegato in fondo all'articolo, Diletta Leotta voleva far vedere ai suoi fan le sue qualità di nuotatrice, peccato però che la perdita del suo costume abbia rubato l'attenzione di tutti gli utenti. . La giornalista ha comunque continuato la sua nuotata, sicura del fatto che, nonostante il piccolo incidente, nessuno poteva vedere nulla in quanto nuotava a delfino, e quindi a pancia in giù. . 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